Buongiorno a tutti. Oggi riprendo un argomento affrontato due giorni fa. A proposito del 25 luglio, per i più attenti utenti di questo canale non sarà sfuggito il video che ho fatto sul 25 luglio e sull'analisi, partendo da basi giuridiche, legislative, politiche, la destituzione di Mussolini da capo del governo e poi ho fatto un brevissimo accenno al suo arresto. Sull'arresto però non mi sono soffermato molto perché non ha delle basi legislative, è stata una scelta politica del re Vittorio Manuel III che ha avuto i suoi effetti positivi e negativi non entravo nel medio, quindi mi basavo essenzialmente sull'analisi e sulla critica di una certa storiografia, una certa tendenza politica che attribuisce al 25 luglio l'epiteto di colpo di Stato, di ribaltone, di tutta una serie di elementi negativi nella, passatemi il termine, dialettica, anche se in un regime dittatoriale la dialettica è abbastanza un po' stemperata durante il fascismo, però fu un elemento molto importante visto che l'Italia viveva un momento molto critico avendo la Sicilia, la Sicilia era oggetto di, in quel caso di occupazione da parte degli anglo-americani. Più nello specifico avevo inserito come immagine di copertina di questo video un collage fatto da me in cui mi inserivo al centro Vittorio Manuel III come arbitro dell'avvicendamento, da una parte Badoglio come entrante in carica e dall'altra parte aveva messo Mussolini che per comodità, per una questione visiva, visto che perdeva il potere, cadeva il fascismo, l'ho messo a testa lì in giù, ma non aveva un significato legato a Piazzale Loreto, non voleva essere un richiamo a Piazzale Loreto, anche perché la foto con Piazzale Loreto non c'entrava niente, cioè era una foto normalissima di Mussolini in una delle sue pose più famose, l'ho messa al contrario per definire che era caduto, nel senso uno che cade in genere ha le gambe per aria, la testa per terra, quindi questo era un elemento, non volevo dare una connotazione anche perché come ho avuto modo di dire poi in questi due giorni, il video era sul 25 luglio, no sul 25 aprile, quindi non aveva nessun riferimento, nessuna volontà denigratoria di presa in giro, di macelleria messicana come qualcuno poi ha detto. Allora, per puntualizzare questa cosa, tra l'altro, poi lo dico dopo, intanto io ho cambiato poi la, oggi ho cambiato l'immagine di presentazione, ho messo Mussolini sopra un 2 di picche, che secondo me è anche più indicativo, nel senso che il 2 di picche è che Vittorio Maderso lo ha liquidato, pensavo che potesse essere a livello di immagini, di figurativa, a livello proprio semiotica, poi se qualcuno poi non gli piace neanche il 2 di picche, mi dispiace, ce l'ho messa per rappresentare quello che è successo con un'immagine evocativa. Allora, io vi leggerò adesso una serie di commenti che sono stati fatti su Facebook al link che ho messo in varie pagine, in varie pagine in cui sono iscritto, pagine che trattano essenzialmente la, la di storia, storia militare, seconda guerra mondiale, eccetera. Allora, io ho messo questo link in evidenza, compare mettendo il link di YouTube, l'immagine di presentazione su vari gruppi. Allora, un gruppo, il video è stato subito rimosso, tra l'altro un gruppo che affrontava anche altri, c'erano altri link, c'erano altri post sul 25 di luglio e è stato subito, non ho avuto una spiegazione della ripozione, sarà rimossa, punto e basta, quindi non lo so per quale motivo è stata rimossa. Poi in un paio di gruppi sono state una serie di commenti sull'analisi del video, quindi chi ha visto il video, chi era a favore o contro la destituzione di Mussolini e un paio di gruppi in cui sono stato oggetto di forti critiche sulla scelta di mettere questa immagine di Mussolini al contrario. Lo premetto subito, molti di coloro che hanno, anzi su me tutti, quelli che hanno criticato aspramente questa scelta, poi il video non l'hanno visto. Allora, uno perché lo hanno dichiarato che non l'hanno visto, cioè hanno detto non lo vogliamo vedere perché non ci sembra serio, e poi dal fatto che il video che tra l'altro in questi due giorni ha riscontrato mi pare circa poco meno di 200 visualizzazioni, quindi è stato un video molto visto nella media degli stessi video di questo canale. A tutti pollici mi piace, non c'è neanche un pollice non mi piace, quindi è al 100% del mi piace, quindi immagino che se uno avesse visto il video e aveva questa critica da farmi ne avrebbe messo non mi piace, quindi immagino che tutti coloro a cui non è piaciuta questa immagine non hanno visto il video, invece tutti coloro che hanno visto il video hanno apprezzato, o quantomeno stati neutri, neutrali, nei confronti della scelta di questa immagine di Mussolini messa a testa in giù come un uomo cadente nel potere, come la interpretavo io. Allora, io vi leggo una serie di commenti fatti a proposito di questa copertina, solo della copertina, cioè non nessuno entra nel merito del video, non leggerò chi lo ha scritto e poi commenterò un po' quello che secondo me è importante. Allora, un utente di un gruppo scrive, può essere serio uno che mette la foto di Mussolini capovolta? Io ho risposto, a me non viene da rire, nel senso che io sono serio, nel senso che quello era il significato che gli davo, quello che ho spiegato. E un altro aggiunge, basterebbe accompagnarlo con educazione alla porta, cioè riferito a me, cioè io devo essere buttato fuori dal gruppo perché non ero serio probabilmente. Tant'è che in questo gruppo, nonostante tutti questi, il video c'è ancora, il link c'è ancora, non è stato tolto, quindi evidentemente chi si occupa della gestione del gruppo, che tra l'altro poi ha anche approvato inizialmente il link, quindi in qualche modo l'ha approvato e poi ancora non l'ha tolto, quindi evidentemente non è così grave o quantomeno non c'era tutta questa enfasi nel non essere presente nell'immagine e nel video stesso. Poi io dico, liberissimi di pensare a quel che vi piace, il video è sul 25 luglio e non sul 25 aprile, chi cade alle gambe all'aria, questa è la mia spiegazione, sono pronto a discutere sul contenuto del video, non su interpretazioni abbastanza pretentuose su gente che il video non l'ha visto. Allora, c'è uno poi che commenta, dice, probabilmente visto che di soli la foto capovolta di Mussolini viene riferita in maniera compiaciuta alla macerreria messicana, qualcuno avrà pensato che pure tu abbia un riferimento a quella cosa. Ripeto, non è una foto di Piazzaro Reto, è un'altra foto, cioè non c'entra niente con Piazzaro Reto. Vabbè, dice, ah, è una giustificazione ridicola, quella che davo io. Allora, dico, qualcuno ha interpretato male perché il senso del video è diverso, mi piacerebbe che le persone guardassero i contenuti e non le forme. E un altro ha scritto, la forma evoca la tendenziosità dei contenuti, desisto dalla visione. Intanto questo ultimo commento ha avuto sette mi piace fino a stamattina. Quindi sette persone hanno reputato che era tendenzioso, quindi non andava visto. E uno poi rincara. Esatto, se intendeva, rivolta a me, che il suo video fosse visto, quantomeno rispetti le forme. Qui non siamo al teatrino delle pagliacciate antifa, antifasciste. Non abbiamo bisogno di alzate di ingegno da centri sociali. Il giudizio negativo sul regime e sul suo capo sono normalmente acquisiti e condivisi. Usare artificio da bambinelli è patetico. E poi c'era poi uno che commentava dicendo che anche sul giudizio negativo nei confronti del regime era da valutare perché non era da giudicarlo negativo in tutto. Questo poi però non entrava nel merito del video. Poi un altro, su vari gruppi. Un conto è discutere di storia. Un altro è ridere di un linciaggio. Io non ridevo di un linciaggio. Cioè proprio non parlavo di niente. Non ne ho parlato. Quindi non ne ho parlato né ridevo. Non ho fatto... Rivedetevi il video. Io non so questi che il video neanche l'hanno visto e parlo. Poi un altro. Questo fa con me una critica a una gestione complessiva dei siti, delle pagine. Che poi come sapete ogni pagina ha un suo regolamento e vi posso garantire che io ho messo... anzi io sono abbastanza ligio. Chiedo spesso anche autorizzazione agli amministratori se un video può essere emesso o meno. Poi mi rispondono. Si può mettere, non si può mettere. Però in genere non è vietato. Tutti mettono link su siti esterni, su articoli, su altre cose. Quindi se non è... io ritengo anche perché poi ripeto. Questo link tranne un sito quindi che non ha avuto poi... su una pagina che non ha avuto delle contestazioni perché è stato subito tolto. Tutti gli altri i video ci sono ancora. Quindi diciamo... chi si occupa, ripeto, della gestione della pagina non lo ha reputato da togliere. Questo riportare video da altre piattaforme non mi piace. Non mi piace. A me non mi piace altre cose. Opinione personale, giustamente. E la persona in questione, cioè io, ha avuto modo... ah no scusa. E la persona in questione ho avuto modo di vedere altri video e ho deciso di non seguirlo più. Perché non fa storia, ma propaganda politica o pubblicità a dei libri. Allora, innanzitutto il mio canale è al 90% recensione di film. Ok. Quindi la pubblicità a dei libri, a me se non concesso, è una piccola parte che poi altro, bisognerebbe spiegare a questo signore che non è una pubblicità, è una recensione. Se io faccio... se io parlo di un libro... che tra l'altro se avete avuto mose... chi è più attento al mio video? Sa che io sono molto parco nel parlare dei miei libri. Io in genere nei miei libri ne parlo poco e niente. Se io faccio recensione, faccio recensione di altri, di libri che mi sono piaciuti, di libri che appunto secondo me valgono la pena di approfondire per vari motivi. Ma poi sono libri, pochissimi libri che ho trattato. Quindi credo che non più di 5 o 6 libri su 150 video che ho fatto. Quindi tutta questa pubblicità di libri non mi pare. Poi tra l'altro poi l'amministratore qui aveva detto ma tutti siamo appassionati. Quindi se uno dà un contributo su dei libri anche propri non è uno scandalo. Però non è questo. La pubblicità ha dei libri. Sulla propaganda politica. Propaganda politica io non ho mai parlato di attualità. Ho parlato di analisi che il fascismo ha compiuto delle nefandezze. Mi pare acclarato che ha perso la guerra. Mi pare altro che acclarato che c'era una situazione di un certo tipo nel 22, una situazione di un certo tipo nel 40, una situazione del 43, una situazione del 45. Forse particolarmente drammatica. Quindi se io dico questo non credo di dire tutta questa propaganda, tutta questa enfasi. Tra l'altro molti di quelli che hanno criticato hanno tirato fuori la faziosità appunto della critica al fascismo dicendo ma il comunismo, ma le foibe, ma i gulag non hanno citato Katin per esempio. Su me è troppo intellettuale Katin. Una serie di cose mancava veramente. Parlateci di Bibiano e parlateci del muro di Berlino, parlateci di qualche altra cosa. Cose che onestamente non c'entravano nulla. Io posso parlare di storia italiana, posso parlare di 25 luglio senza dover parlare per forza delle foibe. Bisogna per par condicio dire una parola negativa contro la testa, bisogna dire pure una parola negativa contro la sinistra. Cioè abbiamo la par condicio nella ricerca storica. Un altro signore dice sul cadavere del leone festeggiano i cani, ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani. Allora effettivamente Mussolini è un leone perché è nato il 29 di luglio, fra poco sarà anche qualche ricorrenza penso a Predappio, però per il resto non mi pare proprio un leone, nel senso che la marcia su Roma l'ha fatta a Milano, ha aspettato l'esito della fine dello stato d'assedio, ha fatto la marcia su Roma in tre in vagone letto. La guerra di Etiopi, lui è fondatore dell'Impera, fondatore dell'Impera, la guerra di Etiopi è durata pure sette mesi con l'uso di gas, non che il gas l'abbiano usato solo gli italiani, l'abbiano usato un po' tutti i paesi occidentali in Colonia, però non è che è stata una passeggiata di salute. La seconda guerra mondiale non è stata brillantissima come genio militare, non ha attaccato la Francia dopo otto mesi di non belligeranza, nonostante il patto d'acciaio prevedesse che dovesse dichiarare guerra a Francia e Gran Bretagna sin dal settembre del 39, ha dichiarato guerra alla Francia quando la Francia era in ginocchia, ha attaccato la Francia quando la Francia era per terra, quindi diciamo che la situazione è tutto questo leone, tutto questo coraggio, non mi è sembrato che ce l'avesse. Poi un altro dice, è stato senz'altro tale, non entro nel discorso politico perché non mi interessa un altro signore, ma nel 900 è stato nel bene o nel male un gigante, tutto il resto sono chiacchiere da bar, Mussolini è stato un gigante. Poi gli ultimi due, si noti come il Gran Consiglio, ripeto Consiglio, in una dittatura, con quattro punti esclamative, depose sua eccellenza. Lui obbedì rispettandone la volontà. Da quel giorno i fascisti scomparvero d'un botto, come da carattere italiano, mentre oggi con la democrazia non mollano la poltrona e relativi emolumenti. Fa riflettere. Non mollano chi? I fascisti. Io non l'ho capito. Non ho capito i politici. Però non c'entra niente sta cosa. Anche perché poi rispettando la volontà, però poi ha fatto la Repubblica Sociale, quindi sta la volontà non lo so. Allora, poi no, questo è stupendo, questo è proprio il massimo. Ma quale arresto fu un sequestro di persona, eseguito dai carabinieri reali, su mandato del re Sciaboletta, il vile fellone traditore della patria che ha usato Mussolini finché gli ha fatto comodo e poi lo ha scaricato quando non conveniva più. Allora, io onestamente su Vittorio Monterzo non vorrei parlare perché avrei delle riserve che non c'entrano nulla col 25 luglio, c'entrano qua altra cosa. Quindi sul disco fellone lascio i supporter della monarchia di Vittorio Monterzo, ce ne sono tanti, quindi non è il mio mestiere. Volevo concedere sul primo pezzo. Ma quale arresto fu un sequestro di persona, eseguito dai carabinieri reali? Allora, parlare di sequestro di persona, di Mussolini durante il fascismo, che stava finendo il fascismo, io credo che nel momento in cui sono state pubblicate questo post su Facebook, io credo che la salma di Matteotti, la salma di Gobetti e la salma di Gramsci si siano rivoltate nella tomba. Dico solo questo, fu un sequestro di persona eseguito dai carabinieri reali, come se dal 22 al 43 non ci fosse nessuno che scompariva, che veniva incarcerato, che veniva arrestato. Quindi di botto in una realtà questi carabinieri reali, forse stavano, non so, a Piacenza, non so, questo ha letto la notizia di Piacenza, pensava che fosse, no, era a Roma, era a Villa Savoia. Comunque questo non l'ho capita, questa cosa, dei carabinieri reali che hanno sequestrato Benito Mussolini per ordine del re. Quindi diciamo, io vorrei chiudere con un pensiero appunto a Matteotti, a Gobetti, a Gramsci e a tutte le decine di migliaia di vittime del fascismo per opinioni politiche, per appartenere a una religione diversa, a un'etnia diversa, a uno Stato diverso. Quindi questa mi sembra una bestialità, una bestialità enorme di fronte al fatto del 25 luglio e travalica anche l'idea di poter mettere una foto al contrario. Questo mi si permetta perché mi tocca particolarmente nell'intimo, pensando appunto a tutti coloro che poi hanno per esempio sofferto, tutti gli Gimi che hanno sofferto in Germania dal 43 al 45, questa mi sembra veramente una castroneria grande quanto una casa, dire appunto che Benito Mussolini è stato sequestrato dai carabinieri reali. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao.